Sindaco, l'11 verrà la De Michele a Teramo per parlare della ricostruzione. Sì, è il primo incontro del neocommissario qui nella nostra città, nel nostro territorio. Sarà occasione di verificare innanzitutto quali sono le intenzioni del commissario, come vuole affrontare da neocommissario la ricostruzione di questo territorio e poi affrontare tanti altri problemi, non escludo anzi, sicuramente anche quello dell'Atria. Che cosa le dirà in merito? Io credo che questo territorio, ho detto anche stamattina, ha subito un evento naturale pazzesco che ha messo in ginocchio un territorio. Questa vertenza non può essere uguale a tante altre vertenze che ci sono nel nostro paese, perché questa è una vertenza, sono 55 posti di lavoro, un'azienda che rischia di chiudere in un territorio che è già fortemente compromesso, da un punto di vista economico, dai postumi del terremoto. E questo allora non può non stare e non può non pesare sul piatto della bilancia. Questo è quello che dirò al commissario, che tra l'altro ho già interessato la mattinata di lunedì con una mia 20 righe di relazione sull'Atria e ho chiesto al commissario di attivarsi presso il Mise. Devo dire che il commissario già l'ha fatto, ecco perché stamattina ho anche invitato i sindacati locali e attraverso quelli nazionali a portare la trattativa a livello nazionale, perché è chiaro che noi faremo tutto quello che possiamo fare. L'11, il 10 incontriamo l'azienda insieme al presidente Di Sabatino e insieme al presidente Lolli e sarà anche l'occasione per far capire all'azienda che qua non si scherza, che qui c'è un tessuto, c'è un territorio, ci sono delle autorità locali che daranno battaglia per questi 55 posti e per questa azienda. E poi vedremo l'11 con il commissario di affrontare questa relazione e poi se è necessario sposteremo anche al governo, sia attraverso il Mise ma anche attraverso altre manifestazioni, l'attenzione su questa importante azienda.